Il 12 novembre ho presentato un'interrogazione a risposta scritta, la 402493, in merito all'esondazione del torrente fereggiano che ha colpito Genova il 4 novembre 2011, causando la devastazione di abitazioni, di esercizi commerciali, l'evacuazione di centinaia di famiglie e sei morti, tra i quali anche due bambini. Dopo due anni non è ancora stato fatto nulla. Ora, nei prossimi giorni sono previsti altri intensi nubi fragili, è stata data Emergenza 1 e c'è il concreto rischio che avvengano nuove esondazioni con le possibili devastanti conseguenze. Voglio sollecitare la risposta da parte del Ministro alle interrogazioni e lo invito a intraprendere al più presto iniziative al fine di tutelare la vita dei abitanti di Genova. Grazie.